Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebimeteo. Diamo insieme uno sguardo al tempo in Europa dove troviamo maggior sole questa domenica intorno al Mar Nero, all'estremo sud-est sulla penisola iberica. Invece altrove qualche fenomeno e un po' di instabilità. Infatti nel particolare della nostra penisola sarà instabile ancora sul Triveneto. Al nord-est sul sud peninsulare alta Toscana e Marche mentre altrove avremo già più sole. Ma entriamo proprio nel particolare del nord Italia. Come vi anticipavo ancora qualche pioggia sparsa soprattutto al nord-est in estensione serale anche alla bassa Valpadana mentre all'estremo nord-ovest andrà già decisamente meglio con più sole. Al centro situazione ancora a tratti variabile quindi piogge e ombrella portata di mano soprattutto sulla Toscana in parte nelle zone interne umbre e marchigiane e su parte del Lazio comunque alternati ad ampie schiarite. Infine al sud inizio di giornata ancora un po' piovoso al sud peninsulare poi tende a migliorare mentre abbiamo più sole sulla Sicilia e gran parte della Sardegna. Per ora è tutto, aggiornamenti su trevimeteo.com